Un posto dove leggo spesso il libro che non è proprio molto convenzionale è il gabinetto. Bagno. Nella toilette. Oltre al bagno, al letto e al divano ci sono dei luoghi in cui le persone si vergognano di dire che leggono. La cantina di mio Londo. In una vasca da bagno mentre ero in una festa, mi stavo nascondendo. Allora avevo il limbo in borsa e l'ho tirato fuori per ingannare un po' l'attesa. Un luogo un po' più strano e particolare, tra l'altro una cosa, non dico illegale ma un po' irregolare. Durante riunioni di lavoro corsi. 2200 metri di altitudine. A cavalluccio ad una palma. Al confine turco-siriano durante i combattimenti tra Daesh e i kurdi mentre sentivamo lo scoppio dei Galashnikov e tutto quanto. O comunque mi ero portato il libro di Joe Lansdale perché mi tranquillizzavo un sacco prima di dormire e quello probabilmente è la situazione più strana in cui ho letto. Dal mio punto di vista oggi è la scuola perché sempre più difficilmente dentro ad una classe si legge un libro. in cantina con la pila completamente al buio e la mia pila in bocca è lì. in cantina con la pila.